Ha studiato danza, classica, moderna, jazz, hip-hop e acrobatica, presso la scuola di danza Santinelli, di Roma. Ancora bambina viene scelta come interprete del film di Cristina Comencini. Va dove ti porta il cuore. 1996. Prende parte poi ai film. Imbarca a vela contromano di Stefano Reali. La ballata dei lavavetri. Per la regia di Peter Del Monte. 55esima mostra del cinema di Venezia. Un uomo per bene. Regia di Maurizio Zaccaro. 56esima mostra del cinema di Venezia. Saimir, del 2005, di Francesco Munzi. Dove è protagonista nel ruolo di Michela. Il film ha partecipato alla 61esima mostra del cinema di Venezia. Ed ha ricevuto la menzione speciale come miglior opera prima. Ha partecipato anche alla 55esima edizione del Festival di Berlino nella sezione Orso di Cristallo. Kinder Film Fest. Ha vinto il Nastro d'Argento 2006 per la regia e molti altri premi. Nel 2004 frequenta un corso di recitazione presso il Teatro Blu di Beatrice Bracco. Nel 2005 frequenta un corso di recitazione diretto da Michael Margotta. Ma nel 2006 ha avuto la nomination per il premio Anna Magnani al Taormina Film Fest 2006 per la sua partecipazione a Saimir. Nel 2006 è protagonista del cortometraggio L'Anne Infetta e il Maggiordomo. Regia di Luca Verdone e del film The Adlai Chitesurf di Antonio De Leo. Interamente girato in Kenya. Ha recitato anche in varie fiction tv. Tra cui, le prime due stagioni della serie tv Distretto di Polizia. La sitcom di Italia 1. Via Zanardi 33. 2001. Regia di Antonello De Leo. Le miniserie tv Ultima Pallottola. 2003. Diretta da Michele Soavi. E Prova c'è ancora Prof. 2005. Diretta da Rossella Izzo. E le serie tv Don Matteo Cinque nati ieri. Entrambe del 2006. Nel 2008 ha recitato nella sopopera Un posto al sole. Nel ruolo di Ginevra da giovane.